cucù tanto Severino è andato di là ma deve fare il tronco perché di là è chiusa non Diggi Pietro già mi devo prendere da solo, arrangiatevi. Comunque che l'albero lì mi dava proprio fastidio, eh? Ah c'è anche lui in sequenza. Vito, sono così comodo. Senta che hai fatto un po' che ti passa sopra. Ma quando parto io non ti puoi prendere da lì. Ecco così puoi passarmi sopra. No, vai su, vai di là e basta. Andiamo al serpente. Se gli fai fare anche i tre basè non ce li togliamo più. No, sono già su i tre basè. Esatto, ma lui voleva scendere e poi salire. No, no, loro stanno su. Volevo scendere. Oh, hai visto che è diventata operativa anche questa? Adesso fuma. Prima l'andava no. Ma che cancei a chi lì porco dici? Che cancei di moto a chi lì? Ma che be', è uno spettacolo. Sembra di essere in Baltellina quando parti la mattina presto che c'è la nebbietta. E' uguale. So che la siamo a 2005, qua siamo a 360. Guarda che si è staccato il coso. 36 metri sul mare. No, senti, senti che arriva l'onibus. Ciao perché ti porta da Cantù subito. Dai che ho finito il fumo. Cazzarola. Ma tanto non ci arriva. Prendi, riprendi, riprendi. Non riesci neanche a partire questa. Vedi che la moto ce la fa. No, spegnerla. Adesso che la riaccende. Ma allora, Pietro ti dobbiamo insegnare tutto. Oh, oh. Ma che non eri qua? Oh. Tira l'aria. No. Vabbè, va bene. Lasciarla lì un attimo e parte. Sempre lo stesso diverso. Vabbè, va bene. Vabbè.